Prima vittoria a Casalinga in pool promozione per la MCS Areano Irpino che supera al palacardito la OMC Bruni con il risultato di 59-51 nella settima giornata del Gironè. Prova di squadra per le ragazze di Cociris Ferazzoli che allungano decise nel secondo quarto di gioco. Nel terzo periodo le pavesi rientrano ad un solo possesso sul 43-40 ma negli ultimi dieci minuti la MCS costruisce con il due argentino Cesta Maggi il successo per la conferma al secondo posto. La posizione a ridosso della capolista Sesto San Giovanni è condivisa con Ferrara e nel prossimo turno per la MCS ci sarà proprio lo scontro diretto con le estensi domenica al palacardito. Sarà praticamente un dentro fuori contro la PFF Group per l'accesso alla finale promozione sognata in estate e possibile con la marcia vincente Piazza nella seconda fase del torneo.